Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, si è formato presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, e il Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano nel 1997 con l'album 13 dita ha iniziato la carriera da compositore Grazie, alla quale ha riscosso grande successo. Nel corso degli anni, è l'autore dell'inno della serie A, O Generosa, esordito nel 2015, talvolta criticato dall'ambiente musicale classico per il suo stile compositivo. È tra i più importanti e prolifici compositori e musicisti contemporanei. Il musicista Giovanni Allevi sta lottando ormai da mesi, con una malattia che lo ha colpito di sorpresa lo scorso giugno. Un mieloma multiplo che lo sta costringendo da settimane al ricovero presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Già elogiato più volte dal 53enne, per la professionalità che sta riscontrando nella struttura. Via Instagram Giovanni Allevi ha voluto tranquillizzare i fan che giorno dopo giorno, si chiedono come stia. Dal letto di ospedale, il musicista ha condiviso una foto in cui, sorridente, come sempre, consiglia la lettura di un libro che lo sta aiutando molto in questo periodo. L'arte della guarigione nelle culture umane di franco voltaggio.